L'Ital Service col tricolore sul petto arriva nella tana di chi ambisce a scucirgli lo scudetto e che fin qui ha dimostrato importanti argomenti in tal senso. Domenica 5 febbraio alle 20.45 in diretta su Sky, Pesero arriva ad Aversa in casa del Napoli Futsal, capolista della Serie A, con un primato costruito su 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'Ital Service che arriva in campagna dopo il pareggio interno con la L84 Torino, piuttosto irritante, non solo per essersi fatti raggiungere dopo il vantaggio di De Oliveira, ma perché lo stesso De Oliveira è stato espulso per un episodio che ha fatto infuriare la società pesarese. Ovvero, quando la squadra di Colini nel finale attacca col portiere di movimento per provare a vincere, palla che termina fuori nella zona della panchina ospite e De Oliveira, che intende battere in fretta, viene ostacolato dai componenti della panchina torinese e in particolare dall'allenatore Paniccia, fuori dall'area tecnica. De Oliveira per battere in fretta scansa con un leggero tocco il tecnico ospite e viene espulso con secondo giallo. Vane le proteste pesaresi. Il brasiliano domenica dovrà saltare il big match di Aversa. Napoli con cui all'andata l'Ital Service perse di misura 2-1 e che ora deve ritrovare gravata dagli affagni di una classifica ai margini della zona play-out. Sarà una partita durissima, sappiamo la qualità della rosa del Napoli. Noi abbiamo più della metà delle squadre acciaccate o infortunate. Andiamo lì per combattere anche con quei ragazzi più giovani. E vediamo cosa verrà fuori. Ital Service che intanto ha ufficializzato il gioiellino classe 2004 finlandese Aro Pappanen che rinforza la truppa di Colini e diventa anche un'importante scommessa in prospettiva. Sarà invece turno di riposo per l'Ital Service Loreto Basket, reduce da una dilagante vittoria interna 97-48 su Tolentino che la mantiene saldamente al vertice della classifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.